benvenuti nel meraviglioso parco delle madonie uno dei tesori naturali più preziosi della sicilia oggi vi porteremo alla scoperta di questo angolo di paradiso ricco di biodiversità e storia preparatevi a un viaggio che vi lascerà senza fiato il parco delle madonie si estende su una superficie di oltre 39 mila ettari e offre una varietà di paesaggi che spaziano da montagne imponenti a vallate verdi questa area protetta istituita nel 1989 è il risultato di un impegno per preservare la bellezza naturale e la biodiversità di questa regione la flora delle madonie è estremamente varia con oltre 2000 specie vegetali molte delle quali rare e endemiche potrete ammirare il pino loricato un albero che cresce solo qui e una miriade di fiori selvatici la fauna non è da meno l'area ospita specie come il falco pellegrino e il capriolo che si muovono liberamente nei suoi boschi e pascoli per gli amanti della natura e delle attività all'aperto il parco delle madonie offre numerosi percorsi escursionistici e ciclabili i sentieri variano in difficoltà e offrono panorami spettacolari che vi permetteranno di immergervi completamente nella bellezza naturale del parco non dimenticate di portare con voi una mappa e di rispettare l'ambiente le madonie non sono solo natura ma anche storia e cultura i piccoli borghi che punteggiano il parco come castelbuono e petralia soprana sono ricchi di tradizioni architettura medievale e arte la storia di queste terre è intrinsecamente legata alla cultura siciliana e ogni villaggio racconta una parte di essa la conservazione del parco delle madonie è fondamentale per garantire che le future generazioni possano continuare a godere di questa meraviglia naturale diverse iniziative sono in atto per preservare gli habitat e promuovere l'educazione ambientale ogni visita contribuisce a sostenere questi sforzi grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso il parco delle madonie speriamo che questo video vi abbia ispirato a esplorare e a rispettare questo straordinario angolo di sicilia non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche per altri contenuti affascinanti come questo